Buongiorno a tutti ben ritrovati oggi è martedì 15 novembre 2016 e questa è la rassegna stampa occhio ai giornali che come tutte le mattine inizia con la lettura del santo del giorno in calendario oggi è un santo del 1200 nato in Germania Sant'Alberto Magno Vescovo il sole è sorto alle 7.04 e tramonterà alle 16.42 per oggi il sito della protezione civile delle Marche prevede un cielo poco o parzialmente nuvoloso con temperature in lieve diminuzione i venti saranno di brezza tesa dal nord a tratte moderati lungo la fascia costiera il mare sarà molto mosso al mattino poi con diminuzione del moto ondoso fino a mosso nel resto della giornata per domani mercoledì 16 di novembre il cielo sarà poco nuvoloso con copertura in serata in diminuzione nei valori minimi le temperature in aumento invece nei valori massimi venti di brezza tesa sud occidentali per la giornata di giovedì 17 novembre invece ancora cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento avremo un transito per i prossimi giorni di una seccatura sull'Europa settentrionale che porterà un peggioramento del tempo nel corso del fine settimana successivamente la probabile permanenza della nostra penisola sul ramo ascendente di un anticiclone manterrà condizioni di variabilità cominciamo dal resto del carlino questa mattina andiamo subito sulla pagina principale la pagina di peso la copertina più luce sulla statale dopo la tragedia e la preoccupazione delle mamme è stata annunciata una nuova illuminazione davanti all'alberghiero mentre sotto la testata fosso sei ore ecco lo stop dei sindaci ospedale unico lettera a ceriscioli per favorire un'area pubblica e dunque non quella di fosso sei ore sabato l'assemblea poi mobilitazione dopo sul turismo soprattutto antidisdette molta gente che ha paura del terremoto quindi preferiscono rinunciare a venire nelle marche Ricci invoca anche Vittorio Sgarbi l'appello di Matteo Ricci il sindaco di Pesaro al premier Matteo Renzi poi la cronaca con i furti a Villa Ceccolini incappucciati fanno il ride al market e nel negozio sotto invece si parla di Valentino Rossi il corvo ha nel mirino il Rossi fan club a Tavuglia un volantino è stato redatto con una macchina da scrivere immediata è partita la querela un minuto di silenzio per Florenta la ragazza la studentessa morta vicino all'istituto alberghiero sulla statale 16 vedete il tratto di strada il comune adesso dice metteremo installeremo lampioni più potenti gli studenti ricordano la loro compagna deceduta l'assessore promette interventi e c'è il suggerimento anche di un alunno allargate la fermata dell'autobus al mattino siamo tutti ammassati sotto monte e siamo in tanti non siamo pochi siamo in tanti potremmo mettere un doppio faro ha detto Belloni come si è fatto all'altezza di Viale Marconi e sotto cosa dicono i ragazzi ci salviamo ci salviamo perché i vigili ci aiutano ad attraversare la strada per andare appunto a scuola da Fano invece la notizia che l'ex assessore l'ex consigliere Ciancabella ha avuto una brutta sorpresa in casa mentre lei dormiva i ladri sono entrati e le hanno ripulito la casa danni e spavento siamo tutti dice lei in balia di questi delinquenti appena siamo tornati appena presi tornano liberi lo Stato pensa agli extracomunitari ma non ai propri cittadini questo è lo sfogo di Oretta Ciancamerla e poi ancora dal resto del cardino le altre pagine parcheggio o area verde? c'è questo dibattito su quest'area dove prima sorgeva un distributore di carburante nella zona Corridoni a Fano battaglia per l'ex Agip maggioranza e opposizione sono divisi l'assessore Cecchitel dice ripristinare i giardini originari mentre Santorelli Magrini e Del Vecchio presentano una mozione che secondo loro serve dove quest'area deve servire per il commercio poi la vicenda di questo anziano ritrovato sano e salvo un 76enne scomparso da domenica ha vagato l'addiaccio per quasi 20 ore compresa un'intera nottata con temperature rigide vicino allo zero si temeva il peggio invece Claudio Streccioni 76enne residente a Senigallia alla fine è stato ritrovato dai vigili del fuoco sano e salvo e anzi anche discretamente in buona salute i sindaci vorrebbero insistere parliamo del referendum sulle fusioni la regione invece no dopo lo stop di Montemaggiore l'assessore Cesetti diceva tenuto conto dei risultati mentre il sindaco Claudio Guccione di Saltara dice insomma nella somma dei voti il sì è nettamente in vantaggio Saltara e Surungherina vorrebbero andare comunque avanti anche se non sarà facile l'amarezza invece di Alesi il sindaco di Montemaggiore ritengo il progetto valido ma certe logiche politiche hanno avuto la meglio andiamo adesso sul Corriere Adriatico il Corriere Adriatico in apertura parla dell'ospedale a Fosso Segliore 29 sindaci ora dicono di no lettera appello inviata a Ceriscioli si mobilita anche ambiente e salute mentre la fotografia è per il terremoto nel cratere 86 comuni i dubbi degli esclusi fuori Fabriano, Fermo e Recanati questa è la prima pagina andiamo nelle pagine interne Colli al Metauro frana sul no la regione vuole bloccare l'Iter per la fusione tra Saltara e Surungherina dopo il voto contrario di Montemaggiore da Riccia a Marchetti il PD cerca di salvare il processo di aggregazione Cesetti va rispettato dice il risultato elettorale e dunque dal primo gennaio nascerà solo terre roveresche nel nuovo comune si insedierà il commissario prefettizio in attesa del ritorno al voto per eleggere l'unico sindaco perché appunto governi poi amministri i quattro comuni che si sono fusi in terre roveresche i quattro diventano uno ora la fase è più delicata infatti Orciano, Piagge, San Giorgio e Barchi sono già al lavoro l'unione roveresca ha fatto il suo dovere questa sera è il primo incontro tra i sindaci si brinda la vittoria dei ribelli nel fortino del comitato la gente ha capito adesso fermiamo tutto e c'è la resistenza di coloro che non sono d'accordo a Montemaggiore al Metauro sulla fusione con Saltara e Surungherina flop della riforma fermate le varianti ambiente e salute si schiera e parliamo di sanità dell'ospedale unico contro la cementificazione della costa continua il Correa Adriatico a intervenire su questa questione dell'ospedale unico in una zona quella straordinaria Trafano e Pesaro di Fosso Segliore dove certamente la costruzione di un nuovo ospedale stravolgerebbe tutto quello che è l'ambiente circostante la mobilità passiva era addoppiata tagliati i posti letto pronti alle barricate per tali scelte e poi il Corriere ricorda anche le marce di protesta che ci sono state in questi anni la prima il 21 aprile del 2012 la prima manifestazione di protesta Fosso Segliore contro il sito e il 15 maggio del 2015 una nuova marcia trasversale dei 500 per dire no sotto invece Chiaruccia serviva a Seri per salvarsi la faccia con gli elettori interviene Fano Cittadeale che annuncia il voto contrario oggi si preannuncia un consiglio comunale infuocato e contro Fosso Segliore ricorda il Corriere ci sono 29 sindaci una lettera inviata a Ceriscioli per dire no al sito dell'ospedale unico imprescindibile l'area pubblica l'iniziativa di taglioline ha il consenso della maggioranza dei comuni ora tre opzioni sono di nuovo possibili la pagina di Fano del Corriere ladri nella notte ride nei quartieri a Centinarola visitata anche la casa dell'ex assessore Ciancamere a cui portano via i soldi della borsetta dal suo vicino scatta l'allarme che mette in fuga e malviventi segnalati furti pure al Residence Flaminio e anche qui c'è lo sfogo di Oretta Ciancamere che è anche commercialista è stata una donna che si è impegnata in politica però di professione è commercialista ci sentiamo abbandonati il governo dia più risorse alle forze dell'ordine sono passati attraverso la porta del garage non tornate abbiamo portato via tutti i valori ecco come si conquistano i mercati esteri la compagnia delle opere organizza nel pomeriggio un seminario di studi posti auto anche qui sul Corriere nell'area ex Agip proposta urgente di progetto Fano e Udc per favorire il centro storico non è accettabile che la zona resti così com'è visti anche i rischi per il carnevale per i tre consiglieri comunali non ha senso su un parco attiguo alla trafficata statale 16 ecco qui l'area dell'ex pompa di carburante Agip nel cuneo tra via Montegrappa e viale Gramsci in 500 ad Arcore per dire no al referendum Forza Italia annuncia le iniziative per bloccare la riforma costituzionale e poi ancora filiera corta sempre dalle pagine di Fano del Corriere filiera corta per salvare il settore della pesca la proposta del gruppo di Tonino Giardine uno puscolo per favorire il consumo ittico i prezzi all'ingrosso sono crollati perciò occorre eliminare i passaggi commerciali e Fano aderisce al club delle città Trentellò dell'assessore Fanesi ha partecipato all'incontro di Rimini il ministro Galletti promette ulteriore fondi per la mobilità dalla pagina della Valle del Cesano che qui racconto dell'anziano ritrovato dopo 20 ore sano e salvo da Mondolfo un incubo che ha avuto un lieto fine per Claudio Streccioni 76 anni di Senigallia cercato a Molino Vecchio da domenica sera l'anziano si era allontanato dall'azienda florovivaistica della famiglia e ha trascorso la notte all'addiaccio ed era in un isolotto del Cesano del fiume vittima di un disorientamento per il morbo di Alzheimer la gioia del figlio ringrazio tutti i soccorritori ci hanno creduto dall'inizio giornate così ti ripagano e riempiono il cuore guardate che bella immagine padre e figlio che si abbracciano con tanta gioia e con tanta commozione il sindaco di Pergolo Baldelli ha visitato Arquata e dice ho visto la distruzione il sindaco del comune è duramente colpito abbiamo coraggio ma non lasciateci soli sotto i fanesi tendono la mano anche a Castel Sant'Angelo i genitori del quartiere di Sant'Orso a Fanno organizzano due eventi per sostenere il paese terremotato chiudiamo con la pagina di Senigallia ora il concerto di Natale si può fare dopo le polemiche la dirigenza ci ripensa il comune mette a disposizione il teatro La Fenice la scuola sembra pronta al dietro fronte esultano i genitori c'è anche il plauso dei musulmani c'è la disponibilità a rivalutare la decisione presa il 28 ottobre scorso aule troppo strette allarme al liceo medi il consigliere Rebecchini propone di utilizzare l'ex casa del custode questi erano i titoli le notizie gli approfondimenti basta acquistare il giornale per leggere poi tutti i particolari dicevo noi ci fermiamo qui la rassegna torna domani mattina alle 7.30 salutiamo anche coloro che ci seguono in replica vi ricordo alle 20.30 invece questa sera il telegiornale Occhio alla Notizia se avete le segnalazioni per noi sempre molto importanti per la nostra redazione anche per il nostro lavoro anche per fornirvi un servizio di informazione ancora più dettagliato più preciso le vostre segnalazioni sono fondamentali 338 4968 250 anche con Whatsapp buona giornata a tutti a tutti i nostri a tutti i nostri a tutti i nostri